ciao a tutti allora questa mattina mi è arrivato un pacchetto nella cassetta della posta e così ho deciso di fare un video unboxing allora questo adesso copro gli indirizzi questo è il pacchetto che mi è arrivato copro gli indirizzi e farò un video unboxing che adesso pare che vadano molto in moda, hanno molte visualizzazioni quindi vado ad aprire il pacchetto che mi è arrivato chissà cosa c'è non voglio che si vedano i miei indirizzi una mascherina Echinox e come mai ho ricevuto questa mascherina Echinox che dopo vi farò vedere meglio perché qui dentro c'è il cd degli Echinox questo è il cd con la nostra copertina Echinox questo è il retro del cd ecco ve lo faccio vedere bene Questa è la copertina del cd realizzata da Massimo Maneghetti grafico il nostro grafico adesso come alla gente piace che effettivamente è un po' una cosa molto infantile che abbiamo tutti quanti da quando eravamo piccoli, il fatto di scartare i regali a Natale, scartare i regali a Pugliano quindi penso che sia per questo che alla gente piace vedere gli unboxing ma mi dispiace un pochino aprirlo perché è bello avere un cd nuovo di zecca non ancora spacchettato però lo devo aprire per farvelo vedere è proprio plastificatissimo allora vi chiederete come mai io che sono la cantante degli Echinox ricevo il cd solamente adesso non è che me lo sono comprata da sola me l'ha spedito Frank perché comunque quando ho fatto il concerto, abbiamo fatto il concerto a Mogliano Veneto dall'emozione mi sono dimenticata di prendere la mia copia del cd quindi lui molto gentilmente me l'ha spedita solamente adesso poi so che sono stati spediti altri cd qualcuno ha ricevuto anche la maglietta che poi non è insieme, non è in regalo insieme al cd però ve la farò vedere la t-shirt degli Echinox e vediamo se è dritto questo è il bellissimo cd mi tremano un po' le mani perché non lo voglio toccare con le dita qui manca la pillola perché comunque c'è il cuore del cd ed è giusto che ci sia anche un mondo consapevole perché c'è il momento della verità e il momento dell'inconsapevole è appena atterrato il mio gatto che tra un po' buco raggiù il telefono tra un po' conoscerete Nemo la peste e questa è la mascherina che indosserò adesso in diretta molto tecnologica spero che l'audio si senta perché forse sto parlando un po' a bassa voce e beh direi che è stilosa come si dice adesso no? bella ciao sono Al Aysk la cantante degli Echinox poi vi faccio vedere la t-shirt che non ho indossato perché è troppo freddo è freddissimo qui in casa e non è tempo per t-shirt però volevo farvela vedere e poi me l'avete penso che chi guarda i miei video me l'avrà già vista indosso però bella farvelo vedere proprio così ma spiegata così forse un articolo questo è l'articchetta che sta un po' brinca gravità zero è il nome dell'album del nuovo album degli Echinox sto dicendo cose un po' ovvie per prendere tempo per rendere più interessante il video per darvi delle informazioni quindi il video e l'album si chiama gravità zero noi siamo gli Echinox questo è il logo dell'album di quest'anno e niente e con questo vi saluto vi faccio rivedere per l'ultima volta il cd se vi interessa contattate Frank Rossano che ve lo può spedire il cd è al prezzo di 15 euro poi ci sono le spese di spedizione e poi non so se più avanti faremo una riedizione delle mascherine perché le mascherine sono già finite perché ne avevamo fatte poche perché avevamo fatto una prova per vedere se l'articolo poteva interessare però abbiamo visto che l'articolo interessa molto la mascherina degli Echinox e quindi stiamo pensando di fare un pacchetto regalo per chi compra il cd e mettere a un prezzo abbastanza abbastanza abbordabile cd e mascherina insieme da Alhaes o Kimielis è tutto ciao special guest Nemo Nemo Echinox anche lui è nero nero e gli possiamo mettere la t-shirt gli sta benissimo ti sta benissimo Nemo sei fantastico anche Nemo indossa Echinox aprile grazie a tutti